A.M. di Michele Aversa, azienda leader nella regione Campania per la fornitura di articoli antinfortunistici e di dispositivi di protezione individuali. A.M. di Michele Aversa, in via Lecinella 40, Mercato San Severino, 089 82 83 241. Esattamente a luglio di cinque anni fa veniva inaugurato il Parco Schwerth di Via Vittorio Veneto. Oggi la villa si trova in condizioni di abbandono, foglie di alberi lasciate cadere sui prati, carenze di pulizie igieniche o parziali. Il parco giochi dedicato ai più piccoli che vogliono divertirsi lo si trova in pessime condizioni di decoro. La villa sarebbe anche invasa dalle blatte, una sorta di scarafaggi volanti che allontanano i cittadini dal parco. Infatti sono stati avvistati un po' ovunque in città, dalle panchine dei parchi urbani ai marciapiedi e per finire anche sulle scale del Duomo e in piazza San Francesco. Nei giorni scorsi gli abituali frequentatori della villa hanno lanciato un grido d'allarme sui social, chiedendo a gran voce una disinfestazione dei parchi e della città in generale. L'illuminazione ha il 40% dell'impianto, non più di sera qua, sai che c'è? E però non ritrovi l'effetto, perché se tu non dai una cura all'ambiente si trascura sempre, perché se qua fossi illuminati, la sera la gente potrebbe essere forza, ma se vieni qua è tutto scuro, sporchizia, non c'è niente da fare, pure poco illuminati. I vicini urbani in questa villa non ci vengono proprio, neanche a prendere l'aria, se vengono vengono e se ne vanno, perché dice che non ti hanno niente da che fare, il principio è la cosa. Secondorica cosa, qua è una villa abbandonata a sé sti, sognano fighi fatte sui, biciclette con biciclette grandi che corrono come i pazzi, bambini che giocano, non so se possono giocare o no, vedete questo è un campo sportivo, quindi perciò che siamo in queste condizioni, vedete voi, io pago soltanto i casacci con i papi di tasse. Si è un divido per i cani, dove portano i signori i cani a defegare? Nella villa comunale dove ci sono tanti bambini che vengono a giocare, vanno nelle aiuole, cosa trovano? Le cacche dei cani.